Buonasera, ben ritrovato, il concerto appuntamento con la voce delle istituzioni, è il piacere di avere in studio il sindaco di Santa Giustina, Ivan Minella, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Salve, grazie a voi. Come sempre abbiamo molti argomenti da trattare, qualche mese fa c'era il problema di Vaia, adesso c'è il problema Covid che speriamo vada ad esaurirsi pian piano, però è interessante sapere come le amministrazioni hanno affrontato questo momento. Noi d'altro canto abbiamo dovuto interrompere questa serie di trasmissioni proprio per sempre i problemi di vicinanza tra persone che parlano, pensate a quelli che hanno magari gli uffici da gestire e tutti i vari servizi. Voi come l'avete, nel vostro modo, come l'avete vissuta? È stata una sfida per tutti, una sfida anche per noi. I comuni hanno dovuto attrezzarsi con delle regole che di giorno in giorno cambiavano, che è stata forse la cosa più complessa. I decreti che escono la domenica per il giorno dopo, rimodulare gli uffici, gli accessi ai servizi che comunque hanno dovuto essere erogati. Abbiamo avuto una grandissima risposta da parte della popolazione che ci ha aiutato per qualsiasi necessità. In che modo? Ci ha aiutato comunque facendosi da tramite con eventuali esigenze di urgenza che c'erano nelle famiglie, segnalandocene e avendo potuto avere un grande apporto da parte delle associazioni di volontariato, per prima la protezione civile che ci ha veramente, ci è stata a fianco per tutte le piccole cose. Noi pensiamo ai grandi problemi sanitari, le cose particolari anche per esempio il cambio di una bombola del gas di una persona che era in quarantena positiva. Chi va a cambiare la bombola del gas a casa magari di un'anziana che non riesce a farlo? Problemi piccoli che però diventano grandi a fronte di un'emergenza così delicata. Quindi aver avuto così tante esperienze veramente ci ha aiutato. I servizi ovviamente hanno dovuto, come anche per Tele Belluno, essere un po' scaglionati, tutta una roba differente, però diciamo che al momento abbiamo retto bene questa emergenza, abbiamo avuto comunque i nostri picchi perché siamo arrivati a una sessantina di positivi in contemporanea, quindi insomma abbastanza importante. Per il numero di Santa Giustina comunque siamo 7 mila abitanti, niente di impossibile, però li abbiamo gestiti bene e sicuramente… Era un isolamento domiciliare? Sì, sì. Senta nel suo comune c'è anche una casa di riposo, nulla centra il comune con questa casa di riposo, però non l'abbiamo sentita nominare tra le case di riposo che hanno avuto difficoltà, quindi una gestione da lodare. Per fortuna non l'abbiamo sentita nominare. La gestione della casa di riposo è stata veramente lungimirante perché fin prima dell'obbligo del lockdown la casa di riposo si era data degli obiettivi e delle normative più restringenti. Questo forse ha permesso anche di mantenere in salute i nostri nonni, i nostri anziani e la serietà con cui viene anche presa la parte della sanitaria è stata veramente un merito per la struttura che si è sempre mantenuta ad altissimi livelli. Un po' è bravura, poi bisogna sempre tenere conto. Un po' è anche fortuna perché lì è un attimo che magari un operatore venga a contatto con… però veramente la serietà è stata ai livelli molto elevati. Comunque complimenti. Poi si passa alla fase 2 e c'è da dare un po' di fiato alle attività economiche, in modo particolare di esercizi pubblici. Anche voi avete adottato i sistemi di ampliamento dell'area, i plateatici come vengono esterne? Assolutamente. Ovviamente con la bella stagione la gente anche più volentieri sta di fuori, questa cosa ha facilitato anche la cosa. Parecchi locali hanno deciso di espandersi al di fuori, abbiamo dato sempre il parere positivo perché comunque quei mesi in cui sono stati fermi non è stato da poco per loro. Quindi la serietà con cui i commercianti di Santa Giustina sempre hanno affrontato le sfide, anche questa volta la vediamo e vediamo con tutta la passione e l'impegno che si sono messi anche per proporre qualcosa di bello, non semplicemente delle espansioni all'esterno, ma anche con dei fiori, degli abbellimenti che comunque rendono questa situazione comunque vivibile. anche per la parte estiva. E poi bisogna dire che questa situazione di crisi che si è formata può aver dato degli spunti a qualcuno o magari anche aver alleggerito un pochino le restrizioni amministrative, perché non so se avessero chiesto la stessa cosa nel pre-Covid come avrebbero risposto non solamente la sua, ma tutte le amministrazioni. Ma mi viene da dire che sono cambiate anche le abitudini. Abbiamo visto come magari si sia cambiata anche le abitudini delle persone, quindi prima magari preferivano una cosa, adesso sono cambiate le cose. Come per il turismo magari abbiamo delle difficoltà a riempire gli alberghi perché scelgono magari le locazioni turistiche, le cose dove non ci sono assembramenti di persone, anche per i locali chi è in grado di offrire uno spazio esterno è favorito, diciamo adesso. Quindi abbiamo avuto anche un cambio di abitudini particolare rispetto a prima. Poi avete lanciato una iniziativa che se non ricordo male però non è proprio assimilabile solo ed esclusivamente al Covid, è quello del cinema all'aperto, lo facevate anche negli anni precedenti. Era tanti anni che a Santa Giustina non si faceva più il cinema all'aperto, facevamo rassegni musicali, facevamo cose teatrali, cose diverse. Quest'anno abbiamo voluto riproporre il cinema all'aperto anche perché avendo disposizione degli spazi più aperti come la zona del campo sportivo, riusciamo a interpretare anche un po' quelle esigenze di andare al cinema che purtroppo fino a poco tempo fa non c'era possibile fare, adesso per fortuna sì e la gente gli piace stare all'aperto, fare queste cose, quindi veramente un plauso agli uffici, all'assessore Colotto che ha organizzato questa bellissima manifestazione, sempre full. E proseguirà anche in tutto agosto? Proseguirà ancora nelle prossime due o tre settimane, sì. Va bene, così qualcuno può prendere nota. A proposito del Covid, da poco era stata aperta la piscina rinnovata, una spesa molto importante, vicino c'è la palestra e naturalmente sono le piccole difficoltà di ripartenza che poi sono state risolte, però arriva questo Covid che stabilisce nuove norme. Come sta andando? Allora, la questione Covid ha imposto anche degli adattamenti alle strutture che non sono state aperte, parlo di piccole modifiche sull'impianto di trattamento dell'aria, sugli accessi, parlo di piccole cose che ovviamente andavano messe a posto prima della riapertura. Abbiamo approfittato di questi momenti di chiusura forzata per prenderci avanti. Uno sulla manutenzione annuale che veniva fatta a settembre chiudendo la piscina, di conseguenza abbiamo spostato le manutenzioni che dovremmo aver fatto a settembre adesso, per non chiuderla un'altra volta, e poi con i piccoli adattamenti di spazi e aree che adesso sono già stati messi a norma per la riapertura completa. Lei sa, a qualche dato è ripresa l'affluenza come prima, dubito? Là stiamo cercando di capire come ancora la cittadinanza si è vicina. Ovviamente avendo una garanzia come onda blu della serietà del servizio e della professionalità con cui loro si approcciano a questo, avendo come prima necessità e primo obiettivo la salute e la tutela del cliente o di chi ne usufruisce. Da parte nostra siamo sereni che ci sarà veramente una tranquillità anche per il cittadino di andare in grado. Una battuta sulla palestra, stessi problemi? Stessa cosa, anche dal trattamento dell'aria, riapertura. La palestra è più legata all'attività della scuola, quindi anche là abbiamo avuto il tempo e stiamo adesso finendo i lavori in vista dell'aria apertura delle scuole. Quella è la domanda che volevo farle, perché siamo sempre nella stessa area, anche perché sono tutti uffici sui quali si è intervenuti da poco, credo che la scuola sono state rifatte il... Le medie abbiamo chiuso i lavori da pochissimo, stiamo facendo le pulizie e gli traslochi. Infissi, energetici... Abbiamo fatto tutta la parte strutturale, quindi l'adeguamento sismico della struttura e anche tecnologico, quindi i radiatori, la parte elettrica, informatica, la parte dei collegamenti, quindi abbiamo una scuola media a norma, a posto, anche dal punto di vista intensivo. Solo gli spazi? Avete problema con gli spazi? Con gli spazi stiamo cercando con la scuola di trovare delle... con l'istituto scolastico di trovare delle soluzioni mediando fra le elementari, che sono lì di fronte, e le medie. Si gioca non al metro quadro, al centimetro quadro, perché le normative sono stringenti e la salute dei nostri ragazzi è molto importante. Ovviamente poterli non mettere in strutture temporanee come container o cose del genere è dare un po' di serenità ai ragazzi che tornano a scuola dopo tanto, è la priorità. Stiamo facendo di tutto, rimodulando gli spazi, cercando delle alchimie più incredibili per riuscire a fare. Abbiamo degli spazi a norma, gli spazi a posto, cerchiamo di usarli. Le palestre, sia quelle delle elementari che quelle delle medie, sono appena state chiusi i lavori, nuove e molto belle, quindi sicuramente questo potrà essere un aiuto anche per la serenità. Senta, io quando transito per Santa Giustina faccio il lungoviale, ci sono tutti questi supermercati, arrivo giù in fondo e c'è questa ampia curva che porta a Formegane, lì lo sguardo cade sempre verso il campo sportivo. Devo dire che mi viene sempre da sorridere perché ogni tanto vedo come nei fumetti questi giocatori che si spostano con le nuvolette di polvere. So che lì c'è intenzione di fare un intervento piuttosto robusto. Esatto, questo è uno degli interventi principali che ci siamo dati come amministrazione in questi cinque anni. Ma vuolvi fare il campo sintetico? Sul campo sintetico ci sta allargando troppo, scherzo. Allora, prima ancora di pensare all'intervento spot. Abbiamo dato l'incarico di un professionista di fare un master plan degli impianti sportivi, in modo da creare per stralci una valorizzazione dell'impianto. Santa Giustina ha una realtà sportiva molto vivace, parliamo della polisportiva, dell'atletica, parliamo del calcio, parliamo della pallavolo, abbiamo veramente un sacco di attività. Abbiamo deciso in questi cinque anni di dare una svolta all'impianto dell'area sportiva, quindi sicuramente nei prossimi anni ci sarà, alla luce di questo studio che uscirà, una direzione da prendere. Quindi anno per anno investimenti mirati per risolvere soprattutto le criticità, parlo degli spogliatoi, parlo di un campo coperto, parlo di una messa a norma di illuminazione, tutta una serie di cose che punto per punto andremo a risolvere in questi cinque anni. Se verrà fuori dallo studio che le società e le richieste saranno anche quella del sintetico, lo affronteremo. Una domanda, tutti questi lavori verranno fatti anche con la compartecipazione economica delle società oppure tutto a carico del comune? Perché adesso è una delle strade che si sceglie. È una strada che all'amministrazione interessa e stiamo seguendo. Noi stiamo interloquendo con la Plavis, che è quella società storica di Santa Giustina che un po' ha gestito gli impianti fino ad oggi, per capire se questa anche con loro sarà una via percorribile. Ovviamente sono investimenti importanti, ci affideremo a quelli che sono gli interventi strutturali dello Stato, della Regione, per quanto riguarda che ogni anno arriva sempre qualcosa per lo sport, quindi anche sempre da ringraziare questa attenzione che hanno nei confronti dello sport. Con la società è sempre difficile perché se fino adesso il comune di Santa Giustina ha dato gli spazi gratuitamente alla società e alle associazioni sportive, una compartecipazione privata vorrà anche dire avere dei costi poi. Quindi è un cambio proprio di prospettiva, lo vogliamo fare o no? Noi siamo aperti a tutti e due, ovviamente le società e le associazioni hanno un bivio anche come costi. Può essere interessante, ma qualcuno sa l'arma, anche perché ci sono dei finanziamenti particolari, se lo fa l'amministrazione oppure se lo fa la società sportiva. Magari è più facile farlo. Il processo sarà sempre comunque mediato con le associazioni del luogo, quindi nessuna sorpresa. Allora, spieghiamo dove è Dussano, quando voi arrivate dal comune di Sedico, oltrepassate il famoso ponte sul Piave, avete la rotatoria sulla vostra sinistra, da quel punto in poi ecco che era la zona di Dussano. Io leggo che lei vuole fare un campo di tiro. Io voglio fare un campo di tiro. No, 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 facciamo chiarezza su questo punto perché ultimamente vedo consigli comunali di altri comuni che parlano di cose di Santa Giustina, cose un po' particolari. Ecco, è arrivata da parte di un'associazione sportiva una richiesta di creare questo campo di tiro. Allora, hanno fatto tutte le carte nella zona demaniale, hanno chiesto il demanio, hanno chiesto i servizi forestali, hanno chiesto il genio civile, dei permessi di competenza. Al comune per il momento hanno chiesto il posizionamento di una tettoia temporanea, cosa che è dovuta, non è sindacabile da parte del comune. Cosa manca però? Manca la parte gestionale. Quando sparano, se sparano, come sparano, se è in sicurezza, come è configurato. Quindi, che è fondamentale, che è quello che devo... Poi queste carte non le avete ancora? No. Quindi, quando mi viene richiesto di dare le carte per una valutazione o ai comuni mitrofi o alla popolazione, io sono in difficoltà. Perché se anche faccio una serata pubblica di confronto, quando mi chiedono cosa vogliono fare lì questa associazione, io non lo so. Quindi mi impegno, e l'ho detto a tutti, quando avrò queste carte a fare un confronto con la nostra comunità e con gli altri comuni per capire di cosa stiamo parlando, ma nel momento non lo so. È caduto vittima dei soci. I soci spingono su questo, sì. Senta, la cartiera De Medici ha fatto un intervento molto interessante, al di là del fatto che sia ormai una presenza storica, ha realizzato questo parco che avete inaugurato da pochissimi giorni. Esatto, da un po' di giorni abbiamo inaugurato questo parco che era stato comunque montato a fine 2019, l'anno scorso. È stato un parco donato dalla cartiera a fronte dei 50 anni di attività e di insediamento dell'attività della cartiera di Santa Giustina nel Comune. Il ragionamento di questa donazione è stato quello di volerlo donare alla comunità. Quindi il rapporto che un po' ho percepito dal nuovo CDA e dall'amministratore delegato è quello di avvicinarsi di più a quello che è la comunità di Santa Giustina con dei piccoli interventi, delle piccole cose che negli anni verranno studiate insieme e quindi è bello che loro siano partiti dalle giovani generazioni, dei ragazzi, soprattutto andando poi a investire su quello che è la parte ambientale. Quindi loro faranno delle giornate di educazione ambientale, di risparmio energetico perché negli anni, come è partita la cartiera rispetto come adesso, una volta era energivora, era veramente un buco nero di energia. Adesso con risparmio dell'acqua e risparmio della corrente elettrica sicuramente hanno fatto passi da gigante anche come la parte di rispetto ambientale e di risparmio energetico. Quindi è una bella cosa. Anche perché da lontano si vede questi fumi che salgono, ma c'erano qui il fumo di vapore, è giusto spiegarlo perché poi, bello da vedere non è sicuramente, però è vapore. Sì, è vapore e acqua. È stato detto anche nell'inaugurazione che avranno un intervento importante di rinnovamento della caldaia che andrà quindi anche a migliorare la parte dei bollitori e quindi fare anche meno vapore e acqua. Quindi bene, una cosa che comunque migliora anche l'impatto visivo di quello che è la cartella. Certamente. Parliamo adesso delle manifestazioni che si faranno, perché noi continuiamo a dire che non si farà. La mostra del mercato si tiene in settembre? In ottobre. La prima settimana di ottobre. Manifestazioni. Abbiamo avuto fino all'ultimo come per le scuole un caos normativo, si può, non si può, come si fa, come non si fa. Attualmente è ancora un po' così. Come amministrazione abbiamo ragionato di dire dobbiamo fare qualcosa. Troviamo le scamotage per farlo, troviamo le soluzioni per farlo. Anche la mostra del mercato, come parlavamo prima del cinema, abbiamo voluto fare qualcosa, abbiamo fatto una fatica mostra, però alla fine ce l'abbiamo fatta. La mostra del mercato probabilmente cambierà format quest'anno. Il problema madre è quello degli spazi coperti, è chiuso. Faremo qualcosa all'aperto. Quindi magari non tre giorni come è stato sempre negli ultimi anni, ma magari fare, stiamo ancora ragionando, sono proprio ipotesi, fare una cosa all'aperto di domenica. Un indirizzo di farla. Un indirizzo di farla, sì. Comunque mollare sarebbe un cattivo segno. E di certo non dobbiamo assolutamente mollare rispondo a questa paura che viene avanti. Ovviamente alla luce di quello che sarà l'evoluzione genico-sanitaria, perché ovviamente noi siamo sempre molto attenti negli indicatori vari che... Si parla in previsione con l'ottimismo. Dovrebbe scemare la pandemia, anche se ritornerà, ma intanto se stanno elaborando dei vaccini può darsi che tutto si risolva facilmente, come invece potrebbe aggravarsi. Altre manifestazioni? No, al momento non abbiamo altre manifestazioni. Abbiamo questa mostra del mercato, che ovviamente è uno dei principali, ma è poi la parte del cinema. Allora, mi restano fuori efficientamento dello stello dell'Altano, ne parleremo, poi dell'Ecocentro nel prossimo appuntamento con il sindaco di Santa Giustina, Ivan Minella, che ringrazio come sempre per la disponibilità, la simpatia, la cordialità. Grazie a voi per averci seguito e buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi.